Questo è uno dei tuoi libri? Sì, questo è uno dei miei libri. Professoressa, se volessimo raccontare la storia degli episodi di violenza razziale avvenuti nel nostro paese negli ultimi decenni, da dove dovremmo partire? Io partirei dal 1979, quando è stato ucciso Ahmed Ali Giamma a Roma, dietro Piazza della Pace. Ahmed Ali Giamma era un colonnello che poi per varie vicissitudini era diventato un homeless e delle persone ignote lo hanno bruciato vivo. Ci sono state nel 1979 delle manifestazioni di piazza, di un cordoglio nazionale di fiori che sono stati portati a Piazza della Pace. Insomma, le parole sono le stesse di oggi, fa un po' impressione. Ce ne sono stati anche altri di omicidi a sfondo razziale, penso a Giacomo Valent nel 1985, un ragazzo di solo 16 anni, ucciso dai suoi compagni di scuola, poi Gerry Maslow, poi Abba, Emanuel, Castelvolturno. Insomma, purtroppo la nostra strada è la stricata di morti. Da quel primo episodio del 1979, secondo lei è cambiato qualcosa nella società italiana? Il problema è che oggi il razzismo viene cavalcato dai media e da alcuni settori della politica. E questo è cambiato radicalmente, è cambiato anche l'empatia che si può avere verso il cosiddetto altro, che può essere un migrante, una seconda generazione. E poi non c'è rappresentazione nella tv e nella carta stampata, ma anche in generale nel mondo culturale italiano. Parlando soltanto degli afro-italiani, comunque degli afro-discendenti, siamo ancora agli stereotipi coloniali, no? Il buonascaro, quindi che sta sempre al suo posto, o comunque il cattivo, il cattivo nero che ti può uccidere, ti può stuprare, o appunto l'odalisca nera, la venere nera, la faccetta nera. Non siamo usciti mai da questi stereotipi, non abbiamo ridiscusso quella storia coloniale antica e quindi ce li ritroviamo o che escono fuori nei momenti di crisi. Quindi il racconto su di noi è un racconto sempre abbastanza distorto. Ci vorrebbe una complessità di sguardi che unisca lo sguardo italiano e lo sguardo afro-italiano, perché ormai gli afro-italiani sono una realtà del paese. Quindi i neri italiani esistono, non come dicono nelle curve dello stadio che non esistiamo, esistiamo da tanto. Però questa storia non c'è né nei media e purtroppo nemmeno a scuola, quindi dobbiamo fare un grosso lavoro. Proprio nelle scuole ho letto che lei vorrebbe che si facesse ascoltare, si raccontasse qual è la storia che c'è dietro a quella famigerata canzone di epoca fascista che tutti noi conosciamo come faccetta nera. Perché? Allora, io mi occupo tantissimo di colonialismo italiano e su faccetta nera mi sono molto occupata, anche perché era l'insulto principale per strada, me l'hanno cantata mille volte, no? Anche per assurdo per rimorchiare una cosa che devo ancora capire. E faccetta nera invece è una canzone, a parte che il regime odiava, no? Allora perché non portare in classe una canzone scomoda e cominciare a disinescarla, a studiarla, a far capire ai ragazzi qual è la storia del passato, per non portarci sempre questo carico di non detto, perché secondo me il non detto fa molto male alla nostra multiculturalità. Non peraltro io ho scritto un libro per bambini, perché dobbiamo cominciare dai bambini per poter cambiare questa società. Qual è allora, secondo lei, la strada per invertire il trend? C'è una proposta, c'è una ricetta? Serve un po' di conoscenza in più. Io dico, scherzando, che servirebbe una fiction, perché in qualche modo c'è tantissima gente che ancora, soprattutto sopra i 40 anni, che guarda la televisione e invece in televisione arrivano sempre queste, questa paura, questa negatività. Invece è una bella fiction, perché no? Ci potrebbe aiutare dei bei film. Io spero che dei registi, insomma, mi ascoltino e comincino a scrivere delle sceneggiature, perché ce n'è un gran bisogno.